La radio linea numero uno, la radio che ascolti e vedi e ti porta a conoscere un sacco di eventi interessanti come Arancione. Che cos'è? Ne parliamo subito con Fabrizio Colica. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Fabrizio Colica delle coliche, se lo seguite su YouTube vi divertite un sacco insieme a loro, quindi insieme a te e a tuo fratello. Ecco, di che cosa parla questo spettacolo teatrale Arancione? Arancione parla di tante cose, forse pure troppe cose, troppi temi che possano essere affrontati tutti in una sera, perché è ambientato tutto nell'ambito di una serata tra amici, nello specifico sono io che invito mio fratello e la mia ex a conoscere il mio attuale fidanzato. Quindi si parla di tantissime tematiche, soprattutto sull'accettazione delle relazioni altrui, sulle scelte di vita, su tanti paraocchi che abbiamo nella vita e tanti tabù che non affrontiamo, che vengono finalmente affrontate nell'ambito familiare, l'amicizia durante una serata. Ma prende un po' spunto da tematiche autobiografiche? Sì, ci sono tantissimi spunti autobiografici, d'altronde pure con le coli che noi prendiamo sempre tanto spunto dalla realtà. Tutte le cose che vedete nei nostri video ci sono bene o male più o meno successe, quindi secondo me la realtà è un grande teatro da filtrare con gli occhi della satira, della comicità, perché anche in questo spettacolo vi farete un sacco di risate. E poi la trasportare sul web, sul palcoscenico, in televisione, eccetera, eccetera. Linguaggi diversi, tematiche profonde, però trattate con leggerezza. Quindi si ride un sacco. Si ride un sacco, si riflette tantissimo. Un po' dopo, quando tornerete a casa vi ritroverete, la sensazione che avrete sarà come aver partecipato anche voi a questa serata tra amici e scambiare un po' la realtà con la finzione. Direi, oddio, ma questa cosa dov'è? Chi è che l'aveva detta? Qualche sera fa ero a cena con un amico e mi ha detto questa cosa. Ecco, quella secondo me è la sensazione che avrete, quella di aver affrontato tanti discorsi avendo semplicemente visto uno spettacolo a teatro. Sarà come essere a cena un po' con voi, insieme a voi sul palco. Esatto, esatto. E in realtà poi per scoprire che la cena non ci sta. E questa è la prima sorpresa. Cioè, gli amici vengono a casa convinti di fare una cena, ma poi questa cena chi la prepara? Poi non mi svelo altro, però. Ok, allora non vogliamo sapere troppo perché ci piace essere un po' sorpresi anche da Arancione. A partire da dopodomani, poi fino al 3 marzo, un cast fantastico appunto con Fabrizio Colica, l'abbiamo detto, Leonardo Bocci, Patrizia Loretti, Paola Michelini, Mauro Conte, regia sempre di Fabrizio Colica. Ci andiamo al Teatro Golden di Roma. Arancione, grazie mille per avercelo un po' raccontato e fatto assaporare. Grazie a voi.